Giornata, giornatina, giornatina lunga perché abbiamo iniziato ieri sera, ieri notte a raccogliere informazioni su quello che è accaduto appunto con la Juventus ed è culminata con la mia prima positività al Covid dopo ben tre anni dall'uscita di questo virus finalmente l'ho beccato anche io anche se in realtà sto abbastanza bene, ho solo un po' di raffreddore, forse un po' di voce rauca, ma niente di clamoroso quindi in un momento in cui non gioco alla Juve, ho uno strappo muscolare e c'ho pure il Covid, quindi proprio dizionario, definizione di noia mortale ci siamo, però non volevo lasciarvi senza un altro contenuto e quindi volevo far passare almeno a voi una serata un po' più tranquilla di riflessione più che altro e credo anche che sia necessario fare un passo indietro rispetto a quello che si è detto magari in passato e cercare di capire un attimino, di ragionare insieme se alcune cose sono andate in una certa direzione per un motivo oppure no per farlo vorrei partire dalla nota che ha rilasciato Massimiliano Allegri nei confronti di Elkan ma ancora prima vorrei parlarvi di Giorgio Chiellini, dato che potrebbe effettivamente entrare all'interno della nuova dirigenza della Juventus come ho anche ipotizzato nel video che ho portato su YouTube oggi, quindi video che avete già visto in cui parlavo di Del Piero ma non solo perché sul numero 10 avevo scritto, anzi avevo registrato appunto un video nel quale parlavo di alcuni giocatori della Juventus che potevano poi, ex calcatori della Juventus che potevano poi essere interessanti per la dirigenza vi invito a guardare quel video online sull'applicazione, il link per scaricare gratuitamente lo trovate qui sotto in descrizione così come trovate anche la nota, sempre all'interno del numero 10, ve la voglio leggere assolutamente da qua Massimiliano Allegri dice è sempre molto positivo sentire la vicinanza degli azionisti e quindi ringrazio John Elkan per queste parole in questione di lavoro, passione e vittorio ho sempre potuto contare sul sostegno di Andrea Agnelli al quale mi leggo un rapporto di amicizia che non si interromperà con la fine della sua presidenza Andrea e John sono figure di riferimento per il mondo bianconero che deve rimanere concentrato sul lavoro quotidiano in campo per ottenere i risultati che tutti vogliamo Che cos'è successo? Oggi Elkan ha confermato Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus e gestore della parte sportiva della Juve, dato che appunto Cherubini è rimasto all'interno della Juventus ieri sera Cherubini voleva dimettersi per lui a quanto pare dalle ricostruzioni ma Andrea Agnelli di missionario gliel'ha impedito, dato che comunque non era interessato dall'inchiesta Prisma non c'entrava niente, non faceva parte del CDA e quindi Cherubini è rimasto nella sua posizione io capisco Cherubini perché giustamente dirà sì, io avevo accettato questo incarico all'interno della Juventus per via di un progetto con una dirigenza di un certo tipo magari se cambia la dirigenza non mi sento più parte di questo progetto e quindi preferisco fare un passo indietro invece poi è rimasto al suo posto, suo consiglio appunto di Andrea Agnelli e la stessa cosa ha fatto Massimiliano Allegri io voglio tornare un attimino al video che avevo fatto ieri sera perché ieri sera vi parlavo di Allegri che sarebbe potuto saltare in seguito all'addio di Andrea Agnelli come dirigente, come presidente della Juventus perché vi dicevo questo? perché nella mia idea, subito, appena avuto la notizia praticamente 24 ore fa non mi immaginavo un Andrea Agnelli via dalla Juventus per l'ennesima lotta a livello legale che la Juventus dovrà affrontare mi aspettavo semplicemente un Andrea Agnelli che era giunto alla conclusione che il suo rapporto con la Juventus era terminato e che quindi si poteva fare da parte per cercare di dare un nuovo corso un nuovo ciclo alla Juventus è stata una forzatura, ne abbiamo già parlato tutt'oggi abbiamo spiegato le motivazioni quindi questo cambia le carte in tavola perché non è più la nuova dirigenza che dovrà preoccuparsi dell'aspetto sportivo no, non è che oggi il nuovo presidente arriva e dice bene, io sono il presidente della Juventus Ferrero dice, però non voglio Allegri questo sarà un pensiero che si farà poi successivamente perché oggi le priorità della Juve sono altre ovvio che la Juve non è che dovrà lasciare passare inosservato il fattore campo ora come ora, no, non vi sto dicendo questo però la battaglia più importante della Juve in questo momento si gioca su un altro campo anche perché comunque, come dicevamo prima ad oggi la Juve non sta giocando e quindi sarebbe stato differente un addio spontaneo di Agnelli e un nuovo presidente della Juventus quindi una nuova dirigenza, un nuovo corso e quindi un'ipotesi di cambio allenatore non è così, assolutamente no e quindi si invertiva la tendenza anzi, era molto più probabile che Allegri potesse ragionare come Cherubini e infatti ieri si parlava di questa opportunità di questa ipotesi di un allontanamento di Allegri di sua spontanea volontà quindi le dimissioni anche di Massimiliano Allegri che non ci saranno come confermato da Elkan come confermato da questa nota di Massimiliano Allegri proprio perché si andrà avanti insieme ora vorrei fare un passo indietro rispetto a quello che è successo nelle ultime settimane e voglio anche dirvi la mia opinione su quello che sarà il futuro di Allegri e della Juventus insieme almeno fino a giugno poi si vedrà perché molto probabilmente per come la sto leggendo interpretando io se ne verrà giugno e poi si cercherà a palla ferma di creare una sorta di dirigenza perenne perché non la leggo come una dirigenza fissa la leggo come una dirigenza tecnica che va in questo momento a coprire alcune necessità della Juventus per poi aprire un nuovo progetto tecnico un nuovo progetto sportivo un nuovo progetto dirigenziale quando si sarà combattuta questa battaglia quando si saranno chiarite alcune cose che non significa tornare indietro su Andrea Agnelli Pavel Nedved non significa assolutamente questo significa però fare di necessità virtù al momento e poi vedremo perché torno a dirlo torno a ribadirlo la Juventus non rischia ad oggi la penalizzazione non rischia la retrocessione sì c'è la possibilità dell'articolo 31 ma come vi ho già detto ragazzi la Juventus non ha avuto necessità di taroccare se così sarà confermato il bilancio non ci sarà il falso in bilancio se sarà dimostrato per necessità di iscrizione al campionato o almeno potrebbe essere ma così come potrebbe essere che domani che ne so magari non sorge il sole può essere possibile potenziale non lo sappiamo ad oggi non c'è un processo ad oggi ci sono delle indagini e queste indagini potevano essere dannose a livello penale per gli interessati che ieri si sono dimessi e quindi hanno fatto un passo indietro ora qualche mese fa eravamo qua a interrogarci e dicevamo ma com'è possibile com'è possibile che internamente alla Juventus non si rendano conto che le cose stanno andando così male ma così male che è necessario fare qualcosa intervenire per modificare qualcosa non è possibile che non se ne stiano rendendo conto e probabilmente se ne rendevano conto probabilmente col seno di poi in quel momento lì non avevano per la testa di ragionare sotto il punto di vista sportivo e quindi l'allenatore perché per un motivo perché c'erano altre cose altre priorità in testa lato dirigenziale alta sfera dirigenziale quindi presidente vicepresidente e si ragionava non tanto sul confermiamo Allegri oppure no ma sul questo bilancio lo riusciamo a provare oppure no o dobbiamo rinviare ancora questa riunione fino a dicembre quando poi non si potrà rinviare per legge e sarà necessario provare questo bilancio che la Consob non sta approvando ma che la Juventus dice che è approvabile quindi questa era la priorità della Juve e questo spiega questo tra virgolette immobilismo lato allenatore in un momento in cui era ormai chiaro a tutti che fosse necessario fare qualcosa lato Juve perché era un disastro e siamo andati avanti insieme e la domanda quindi che vi faccio è siamo andati avanti insieme perché c'era davvero questa certezza o siamo andati avanti insieme semplicemente perché non aveva senso intervenire in quel momento quando la stessa dirigenza della Juventus era ballerina e quindi non si sarebbe potuto ragionare sul lungo periodo ma soltanto sul breve se non un brevissimo periodo perché si sapeva che da qui a pochi mesi poteva cambiare tutto questa è una domanda questo è un what if perché per come la sto leggendo per come la sto interpretando per quella che non dico che sia la mia ricostruzione perché non ho elementi per farlo ma se provo a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle la logica mi dice questo cioè che la Juventus in quel momento non ha preso seriamente in considerazione l'esonero di Allegri non perché fosse soddisfatta del rendimento della squadra o di Massimiliano Allegri o non perché non fosse in grado di sostituire l'allenatore con un altro allenatore la famosa battuta arriva bene lo paghete a quell'altro no ma semplicemente perché si sapeva che poteva esserci una remota possibilità diventata concreta ieri sera di un cambio dirigenziale che avrebbe portato poi uno stravolgimento e come vi dicevo prima secondo me a partire da giugno quando poi il pallone si fermerà quando le acque si saranno calmate può essere può assolutamente essere e quindi paradossalmente da uno che vi aveva detto pochi mesi fa avrei esonerato Allegri e ha campionato interrotto quindi dopo Juve Lassaco che vi aveva detto non sono ancora conquistato da Allegri non sono ancora convinto che Allegri ce la farà o che non ho ancora recuperato tutta la fiducia ora come ora oggi come oggi non posso fare altro che dirvi che sono contento in realtà che rimanga Massimiliano Allegri ma non perché Massimiliano Allegri non perché magicamente si è recuperata la fiducia sarei stato contento per qualsiasi allenatore perché è un boom grosso questo qua ora c'è un mondiale di mezzo quando i calciatori torneranno non so come la prenderanno lato mondiale non so come la prenderanno lato Juve c'erano dei risvolti psicologici importanti bisognerà vedere se ci sarà un rientro con problematiche proprio a livello di testa perché ovviamente il caos il terremoto si avverte e quindi stravolgere anche la parte legata al tecnico sarebbe stato secondo me decisamente troppo in un momento del genere quindi col seno di poi probabilmente non si è presa la decisione ribadisco questa è la mia ricostruzione non si è presa quella decisione perché in quel momento non si sapeva di che morte si sarebbe morti e ora come ora almeno lì cercherei di lasciare le cose tranquille credo che che sia giusto poi col seno di poi e ovviamente sempre raccogliendo che non sono elementi sono indizi o semplicemente pezzi del puzzle che possiamo mettere insieme senza sapere la verità ma ad oggi vi dico che meno male che Elkan ha deciso di rimanere con Allegri nella giornata di oggi meno male che Allegri ha deciso di rimanere con la Juventus perché probabilmente uno stravolgimento anche lato sportivo proprio sarebbe stato forse la pietra tombale definitiva per questa stagione e forse anche per questo gruppo di calciatori che non significa attenzione voglio risottolineare non significa che io abbia recuperato magicamente la fiducina Allegri perché non è questo il discorso sto soltanto dicendo che dopo la testa del presidente la testa del vicepresidente la testa di tutto il CDA tagliata tagliare anche un'altra testa quella dell'allenatore a caso in un momento in cui nemmeno i giocatori sono qui probabilmente sarebbe stato anche troppo perché già così sarà tremendo sarà terrificante probabilmente perché è vero che la Juventus entra in una nuova fase in una nuova era ma è anche vero che dal niente tutto quello che sapevamo è crollato castello di carte che proprio viene giù quindi non sappiamo come reagiranno i calciatori e magari quelle penalità sportive verranno attribuite dal campo perché le cose potrebbero andare come come ci immaginiamo come speriamo che insomma ok ci stiamo capendo tutti insieme quindi sarebbe stato questo discorso come è condivisibile per qualsiasi allenatore in panchina e fa strano pensare che Massimiliano Allegri sia l'unico a questo punto l'unico vero collegamento tra la Juve di ieri e la Juve di oggi e forse anche la Juve di domani non lo so ribadisco secondo me poi da giugno luglio si ragionerà un po' più con calma però la Juve che ricomincerà a gennaio e la Juve concluderà il campionato mi viene a dire che sarà una Juve sperimentale e tecnica appunto come dicevamo nei video a partire da stamattina perché c'è un'altra battaglia da combattere più importante addirittura più importante del campo addirittura più importante del campo perché vanno salvaguardate alcune cose va salvaguardato anche il nome della Juventus e va cercato di difendere l'onore della Juventus per fare in modo che non venga buttato altro fango sulla storia della Juve perché in primi se non se lo merita i tifosi e attenzione badate bene io non sono qui a dirvi che credo che sia sempre stato fatto tutto secondo i termini di legge io dico che in questo momento non abbiamo abbastanza elementi per sentenziare che sono due cose diverse se poi verrà fuori che la Juventus ha giocato sporco lato stipendi ha fatto dei pagamenti in nero e quindi andate a creare effettivamente un falso in bilancio andando a truccare la borsa ragazzi in quel caso ci sarà poco da fare ci sarà poco da difendere ci sarà puntare il dito contro le persone che hanno fatto queste cose e ci sarà semplicemente da dire che bisogna vergognarsi ad oggi sono delle indagini in corso che non significa che ci sia ancora un giudizio un estremo per avere un capo accusatorio importante non sappiamo ancora bene come sono andate le cose sono soltanto chiacchiere anche se chi era coinvolto ha fatto un passo indietro perché sentiva che in questo modo in questo momento le cose potevano peggiorare ma ribadisco non significa che ci sia il colpevole o che siano colpevoli non significa neanche che non lo siano aspettiamo vediamo e poi tiriamo i giudizi perché secondo me sparare a caso è sempre qualcosa di terrificante quindi non sono qui a dirvi che sono tutti innocenti che sono tutti perfetti lindi, puliti no non lo so come non lo sa nessuno in questo momento se non quelli che hanno agito e forse nemmeno loro perché insomma sono normative abbastanza complesse e secondo me sono cose che vanno analizzate perfettamente ma ad oggi il piano sportivo non è preso in considerazione perché la Juventus non è che non riusciva a iscriversi al campionato senza questa roba qui no assolutamente no stiamo parlando di di quel famoso momento in cui chiedono il taglio degli stipendi comunque sul canale trovate anche il riassunto di altri video concludo permettetemi lasciatemela dire sta cosa perché veramente la trovo terrificante la liga che fa il comunicato chiedendo la retrocessione della Juventus sull'esclusione della Champions ci hanno la faccia come il culo perché io mi immagino veramente mi immagino un comunicato della Serie A in cui chiedono che Real Madrid e Barcellona dopo anni 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 di debiti alle banche escrezioni ai campionati nonostante un rosso in bilancio con soldi pubblici utilizzati per fare calcio mercato immaginatevi un comunicato della Serie A che dice queste cose che cosa immaginiamo che cosa pensiamo tutti noi tifosi ma noi non abbiamo abbastanza degli affaracci nostri a cui pensare senza dover andare a pensare a quegli altri stessa cosa che mi viene a dire nei confronti della Liga e del presidente della Liga che veramente è stata qualcosa di vergognosa aspetto un po' le vostre considerazioni qui sotto nei commenti